qua eccoci qua aspetta che oh no switcha tomoro e karim no bastardo dai no sistema dai no c'è karim perché c'è karim doppio no perché cosa succede questa cosa toglilo togliene uno dai lasciane uno copia link dello slot ospite due perché l'altra volta abbiamo avuto casini moro ti ricordi ma perché assolutamente noi non ce li ho avuti fatto tu hai fatto fatto io abbiamo che eravamo io e te non abbiamo colpe io non sono il tecnico adesso registriamo in 3 2 1 via grandissimi ragazzi e bentornati nella moca il podcast che no ero detto io io dovevo dire la moca io dovevo dire ma l'ha rubata lui ma perché oggi eravamo invertiti quindi è stato un casino il podcast che vi scalda il cuore oggi è freddo eh minchia il ventilatore acceso sì vabbè oggi sono 8 gradi in particolare qui infatti ho messo la vestaglia è tornata la vestaglia ce ne sono 6 tra poco dovrà partire la stufa e quindi sentirete per un attimo un perché quando parte fa così è colpa tua riscaldamento globale perché perché la casa ben coibentata cambia casa cazzo voi o mettici del dello strutto dello stucco ma questo freddo mi tempra e poi preferisco avere freddo che caldo quindi va bene quello è vero però apri una finestra è risolto scusami che senso ha fare avanti cioè io lascio quello che c'è abbassare scaldamento abbassare ma non è acceso se fosse acceso riscaldamento allora che senso avrebbe vestirmi fai passare un po di aria che c'è odore di chiuso l'ho fatto è troppo freddo vabbè ma basta ogni volta di startare questi podcast parlando dei cazzi nostri è passato un minuto e 31 secondi non è che abbiamo parlato di chissà che cosa ieri era san martino l'avete festeggiato ma chi cazzo festeggia san martino veneto san martino famosissimo ma veneto smettila e vabbè quindi san martino è razzista comunque si è tagliato il mantello l'ha dato un poveretto razzista san martino no tu sei razzista san martino no si è tagliato poi non so se l'ha dato a un suprematista bianco il mantello questo non lo possiamo sapere non c'ero ma magari e quel e quel mendicante era adolf hitler scopriamo penso sia mai stato un mendicante abbastanza recente come santo che andava a cavallo col mantello in germania era un tipo strano era ma chissà quante feste starete festeggiando voi a casa mentre noi oggi vi narriamo dei giochi che abbiamo giocato questa settimana carima anche delle tre settimane passate visto che c'è mai stato che tra una cosa e l'altra è mille impegni sì sì io ho giocato un cazzo infatti lascerò parlare voi mi sa no infatti ma neanche io ma in realtà anche io non tantissimo ho provato ho provato un po grazie a tutti devo anche devo fare anche un po di mente locale perché queste tre settimane o sono partito con il single player di tarkov ok è una mod che ti permette di giocare a tarkov esattamente così com'è quindi con con i bot però con solo i scav che però puoi modificare quindi puoi metterne di più più difficili meno difficili quindi praticamente lo avvi in modalità offline non è che ti fanno la modalità la modalità c'è la modalità offline di tarkov ok non puoi fare le quest non puoi c'è non puoi progredire ok e quindi hanno fatto questa mod che serve per giocarlo esattamente come l'online ma senza giocatori e molti pro di tarkov si sono convertiti al single player semplicemente perché tra hacker tra il fatto che per giocare devi ammazzarti devi essere bravissimo eccetera eccetera wipe di serve eccetera hanno detto vabbè sentimi vado a rilassarmi tra virgolette nel single play è comunque è un buon metodo per imparare le mappe che è la cosa più difficile è quello vero imparare dove si esce quindi se tu giochi con una mappa a fianco insomma è comunque molto ecco qua per chi ascoltasse solo abbiamo fatto la storia non volevo dire niente sono stato zitto perché stavo ascoltando vabbè sì si può giocare multiplayer contro i bot no non esiste non c'è il nel gioco normale nel gioco normale in questo modo poi giocare con un amico immagino di no 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 e il multiplayer di non no cioè nel senso lo sviluppatore però è più rambiato con la mozzi compreni che con gli acristi ma veramente veramente però meno è normale perché gli sta portando via la gente da dal gioco vero e proprio cioè io lo capisco comunque comprarlo sì il gioco comunque lo compri non c'è questo in game o robe quindi in realtà molti sviluppatori non sono amanti delle mod lo so rockstar li ha li ha portati in tribunale sì rockstar adesso ha comprato cfx allora ha comprato cfx però guarda che ai tempi li ha portati in tribunale quelli che avevano fatto le mod per san andreas per poi rubargli le idee e nella remastered non so se ti ricordi non era molto più recente non era san andreas sì sì era già gta 5 per no è successo durante i periodi gta 5 però le mod erano per i più vecchi sì 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 infatti poi dopo sì ma credo credo a determinate i mod non credo neanche in generale sì non tutte sì probabilmente no però c'è a portare in tribunale chi perché chi la fate i modders tutti quanti ma che cazzo ne so adesso dove telefoniamo non penso credo credo mod specifiche anche perché adesso voglio dire cioè sì però scusami anche che mod adesso che una volta potrebbe essere mod non sono tutte le mod gatto saranno alcune mod no ma che mod è che può darti fastidio cioè in generale e in teoria perché gioco lo devi esattamente perché comunque il gioco lo devi comunque comprare come stavi dicendo tu però gli sta sul cazzo beh su gta però è diverso perché tarkov non vive di acquisti in game o robe del genere quindi ma neanche gta i vecchi il ca vabbè no beh no san andreas no su gta 5 appunto lo posso capire perché se uno compra gta per giocare solo l'rp e robe del genere tutto moddato robe del genere dove viene sempre aggiornato di mod e robe del genere non gli ne frega un cazzo di giocare all'online dove campa rossa è lo stesso discorso però si faceva anni fa con arma 2 perché un sacco di gente aveva iniziato a scaricare arma 2 solo per la mod di days senza giocare ad arma 2 e i prov di arma 2 si erano lamentati dicendo e adesso ci avete tutti arma 2 per la mod ma che ti frega anzi stai tranquillo fa schifo arma 2 vado su days e basta era vecchissimo ai tempi quindi era difficilissimo tra l'altro arma 2 quindi vabbè era un discorso no elitarista da esatto sì sì quello che facciamo noi quello che giocate con i giochi di merda vi piace augur legacy coglioni che è uscito quest'anno augur legacy sì e deve uscire tra poco su switch vabbè al di là di questo fatemi aprire sta parentesi che vi ho detto prima di iniziare la live allora stanno iniziando alcuni publisher a mettere determinati giochi vecchi su switch migliorati e più giocabili ma solo su switch più giocabili è uscito gothic gothic su switch ma è incredibile perché la versione più giocabile del mondo di gothic anche su pc la la remaster non è una remastered è gothic classic si chiama base e no tu per averlo in quelle condizioni lì devi installare tutte le patch della comunità ma non sono anche red dead redemption 2 stessa cosa no uno scusami il primo sì il due non credo che possa entrare dentro la switch io la vedo dura però dio c'è qualsiasi cosa stanno mettendo ormai su switch quindi non mi soffi pensa a fine a fine ciclo a fine ciclo sì perché ormai non credo che dureremo ancora molto però è vero voglio giocarlo su switch gothic gothic è un gioco per pc e invece la versione migliore lì tra l'altro la gente nel lab della se l'ha migliorato perché su pc a oggi giocarci io mi ricordo i tempi quando giocavo gothic 2 quanto era duro ma poi gothic 1 tu non hai idea si gioca tutto con la tastiera senza il mouse ed è un gioco di ruolo di quelli con l'inventario da 3.000 cose da raccogliere da per terra e tu per raccogliere devi premere contro le su con la freccina e lui raccoglie le cose da per terra invece su switch con joy pen con una nuova hd ma giocano giocano su switch ma non lo voglio di giocare su switch ma perché è quello l'elitarista e no devo collegare l'elitarista devo collegarlo all'elgato ma giocaci cagando tanto quanto vorrei mai giocare a gothic 2 cago 5 minuti il primo cioè io vorrei giocarlo tranquillo non quando sono in bagno sul divano sullo schermo piccolo non me ne prega niente a letto io dormo io dormo io dormo io poi a letto tutto incriccato ti consiglio il mio cuscino se vuoi sto benissimo ma io non voglio giocare sdraiato no per dormire non era un cuscino da gaming magari c'è uno che ti sta stritto qui lento un esoscheletro è l'unica è l'unica è l'unica bello quindi sarebbe veramente bello un esoscheletro al posto delle sedie delle robe se hai le ginocchia ti si piegano bellissimo ma che non è male no sarebbe bellissimo sì sì pensa in fiera eh o in coda semplicemente se in piedi ti pieghi e sei seduto ma non senza assese bellissimo è come se fossi appoggiato a un muro ma in piedi bellissimo dovremmo brevettarla questa cosa qui sì ma vabbè già c'è però è e che non è popolare bisognerebbe mettere un un palo di lato tra il tallone e non entrare troppo nei dettagli che ci rubano su hai ragione poi poi mandone un'idea con un palo di lato professionale sia però sicuro telescopico bello io ho continuato Alan Wake però non sono andato troppo avanti volevo sapere se anche Karim aveva fatto la stessa cosa o se rinviamo a data da finire perché io sto giocando con l'Ale un'oretta al giorno e siamo un po' rinviamo perché sono andato a lucca quindi mi è andata di sfiga quest'anno perché ogni gioco big che volevo giocare poi sono andato fuori dalle balle verissimo e mi sono poi mi dimentico tutto e quindi ok allora rinviamo moro detto che il gioco più brutto che abbia mai giocato comunque giusto per aggiornarti veramente che fa schifo al cazzo probabilmente sarà il mio gotti di quest'anno gotti positivo? sì ah minchia soggettivamente però non cioè come gioco non può essere cioè sa delle cose che può essere gotti però non è sarà più che altro è difficile competere quest'anno come dicevamo domenica scorsa quest'anno è proprio dura però è proprio mi è piaciuto tanto e ne devono ancora uscire devono ancora uscirne di giochi chi intanto avatar tutte le anteprime che sono uscite hanno detto tutti è carino no però è carino è carino l'ho detto anch'io che è carino sì sì poi cos'altro deve uscire quello basta aspetta aspetta forse ancora un altro mi sa importante giochi uscita che mese novembre novembre e dicembre anche novembre dicembre io devo giocare dragon ma non l'ho ancora iniziato era nel game pass quello no sì sì ok like a dragon gaiden che dove iniziarlo adesso stasettimana lo inizierò lo dura dura pochino dura meno di 20 ore mi dice quelli di switch che dobbiamo fare a super mario ci devi parlare di robocop allora fermi un attimo parliamo di robocop che allora robocop è un gioiello o è un gioiello di è un giochino una di quelle gemme grezze che ci sono anche inaspettato perché figura ti esce un gioco di robocop e su robocop c'è rotto non ti sentiamo dove sei ci sono ci sono adesso mi sento e probabilmente c'ho problemi col cavo perché tutti i cavi uno sopra l'altro e fanno qualche contatto sicuro comunque dicevo sì che far uscire un gioco di robocop nel 2023 cavi ti dici viene come quello di king kong si ricorda che robocop ma quello sicuramente il problema è come esce fuori un gioco di robocop su robocop nel 2023 effettivamente robocop è proprio vecchio è per noi da piccoli era una roba incredibile ma ne eravamo proprio piccoli noi è il vecchio robocop ma anche il nuovo robocop sono andati a fare un nuovo robocop è quello nuovo quello che l'hanno fatto insieme a dread sì 2000 sì forse un po' di mi ricordo dread sì comunque robocop era prima che nascessimo è dell'87 sì appunto dico eravamo proprio piccoli perché poi dopo negli anni 90 lo davano tutti gli anni tutti quanti robocop c'erano ai tempi ce ne sono tre l'ultimo uscito nel 93 però io non trovo l'altro robocop è il robocop quello nuovo che c'ha la tutta nera 2014 esatto con l'attore di altred carbon era lui non l'ho visto però mi hanno detto tutti che era un po una merdina quindi sì sì ho capito capito madonna l'ero completamente dimenticato esattamente era il periodo in cui avevano fatto uscire la serie di remake di magnum pi remake di arma letale tutte quelle serie lì che nessuno ha guardato e a nessuno piacevano però hanno continuato per altri tempi di quelli ci hanno il fascino del vintage se lo fai oggi è una merda esattamente esattamente io riguardo di recente come si chiama quello con fartenegger su marte atto di forza atto di forza riguardato di recente e mi è piaciuto un sacco però capisco benissimo chi lo guarda oggi l'hanno rifatto anche quello se non sbaglio hanno rifatto anche a carl urban con colin farrell era colin farrell non era carl urban mi sembra fosse colin farrell però vado a memoria comunque è un gioiello il gioco di robocop perché io mi aspettavo uno sparatutto lineare anche abbastanza fosse un arcade da sala giochi anche perché chi l'ha fatto sono i creatori del gioco di rambo che era un arcade da sala giochi praticamente che era veramente quello era su binari sia su binari con i pezzi di audio del gioco di rambo dei film di lambo con l'audio tutto distorto dei film vecchi per farti capire invece questo qua il modo migliore per descrivervelo è un deus ex piccolissimo è un deus ex dove tu hai anche dialoghi scelta multipla uno skill trick che ti permette di avere più dialoghi scelta multipla ma solo in alcuni momenti ma ha senso ti fermo un secondo ha senso la scelta multipla nel senso che cambia qualcosa semplicemente cambia la frase risposta ok veramente pochissimo cioè nel senso appare scritto questo personaggio ha apprezzato la tua risposta un po come i giochi della telta il però non serve a tantissimo forse qualche finale mi manca ancora un paio di missioni per finirlo ma sono lì vicino alla fine e ed è molto particolare perché tu sei robocop quindi non ti puoi né accucciare né saltare tu puoi solo camminare correre che è tipo 1,5 la camminata non è niente di che e sparare ok ed è proprio bello lo shooting è bellissimo perché si spappolano i nemici e poi hai le indagini le missioni secondarie ci sono c'è l'open map ok piccolina che in realtà tu puoi andare diretto a fare la missione non serve neanche esplorare volendo per ogni tanto ti dicono robo 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 vieni qui che vieni qui che c'è un'indagine da fare vai lì e fai un questa indagine molto semplice dove neanche spari la maggior parte delle volte nelle missioni secondarie sono proprio carine e le ambientazioni sono molto dettagliate quindi tu cammini per la stazione di polizia cammini per la città per le stadi detroit cammini per i cantieri insomma è molto bello è proprio bello è è un gioco in miniatura che mancavano che va bene cioè sarà anche costato poco magari da fare non so sia a livello di produzione tipo se lo può fare betesa lo può fare anche questi qua sono tutti mezzi busti in un gioco così lo accetti nel senso non è sì ha un solo difetto che però è mio difetto un difetto per me fastidiosissimo ogni singola cosa che fai fai partire un dialogo finisce il dialogo entra una porta esce dalla porta a un fade to black di caricamento ogni singola cosa è un classico porto il gioco io infatti ogni volta che c'è una porta prego che sia una porta interagibile in tempo reale non un caricamento perché sennò è un fade to black continuo fa il dialogo anche perché ci sono due tipi di dialoghi un po con betesda c'è la cinematic dialogo dove vedi la telecamera che un po si muove e poi dialoghi quelli a mezzo busto che volendo puoi anche schippare singolarmente i dialoghi ogni cosa c'è fade to black parte la cinematic dialogo finisce fade to black entra il dialogo normale in fade to black ed esce e ogni tanto sono di fila ragazzi ma perché quello è proprio una roba di sviluppo di un team di sviluppo piccolino ma non è neanche magari che sia un errore semplicemente hanno ottenuto l'engine attaccato come riuscivano esattamente esattamente però in più è molto vecchio ma un po old school old school esattamente non old school ma diciamo generazioni prima di videogiochi a livello già che robocop cioè per forza deve essere un pochino old school ma magari l'hanno fatto apposta c'è proprio una scelta di design il title screen quando appare scritto robocop con la musica e poi zooma piano piano sul buco della o è decentrato nel senso che la telecamera non entra nel buco della o e si sfoca perché va avanti si spixella no però mi ha fatto ridere perché proprio capito sembra un film d'altri tempi come robocop come robocop e quindi no quindi io ve lo consiglio perché è proprio un bel giochino e nessuno se lo aspettava in più anche una componente psicologica importante cioè tu dopo ogni caso vai dalla psicologa perché perché robocop lui c'era tutti i problemi bestiali per la sua condizione tutto esattamente e qui c'è un piccolo incidente succede dove tu hai dei problemi a livello tecnologico e mentale e che non mi aspettavo io mi aspettavo veramente solo di sparare gente invece no c'è tutta quella componente un po più umana molto bella e tu puoi dare le risposte nella seduta dal psicologo che non credo cambi molto no ti psicanalizza il sì esatto e infatti tu devi dare le risposte è figo no guarda è veramente e poi e poi mi sa che sono riusciti a prendere il doppiatore di robocop originale per fare l'attore bello io ve lo consiglio mai doppiato in italiano o dici l'attore inglese anche una certa età è perfetto cioè almeno sicuramente più di 30 anni quello sì beh sì sicuramente di più più di 35 sicuramente era peter weller peter weller esatto e parla tutto robotico ma non troppo quindi molto figo sì è proprio bello peter weller che all'epoca l'avevano preso perché era uno degli attori sulla cresta dell'onda anche perché aveva degli occhi bellissimi e niente ne hanno nascosto metà faccia infatti ogni tanto gli devono togliere il casco esattamente esattamente per far vedere che è lui mamma mia a proposito di vecchiaia questa notte ho giocato e finito naturalmente a metà slag x pensavo dicessi mi sono mi sono alzato andare in bagno tre volte a proposito di vecchiaia prima di andare a letto così insieme a aerojet abbiamo finito metà slag x così e sempre c'è ogni tanto è quel giochino che non lo rigiochi perché è proprio bello metà slag esteticamente anche parlando c'è un gioco ormai di quando non lo so neanche l'x in generale l'x è quello un po più recente però la grafica comunque quella però comunque non so se arriviamo al 2010 con x no 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 cioè l'ultimo metà slag del 2006 il 6 tipo del 99 l'x sarebbe il 2 però quello pazzo con gli alieni e il 2 rifatto perché sai sai perché so queste cose perché io durante il road trip quest'estate ho giocato tutti metà slag tutti quanti e ho scoperto ho cercato di seguire la trama moro è un delirio la trama di metà slag da seguire anche solo cioè tipo metal gear è un macello è veramente un macello è perché hanno fatto l'x e l'xx che sono il 3 il 2 e il 5 se non mi ricordo male perché il 2 originale io ti invito a giocare il 2 originale è tutto in slow motion perché non sono riusciti ad ottimizzarlo tu e il 2 è molto molto peggio ci sono dei momenti in cui proprio quasi non si muove niente talmente c'è casino tutto oggi se li giochi io sono su steam non è che c'è non è che va tutto a merda anche su steam si 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 è fatto proprio a poi c'è il multiplayer online c'è la copa online pensate però non ce l'hanno è proprio è proprio bello c'è per pensare anche per l'epoca in cui era c'è c'è una cura nei dettagli nel nell'estetica guarda che nella pixel art che all'epoca era appunto lo lo status ci lavoravano molto di più e notavi dei dettagli quello poi c'era quello esatto però però c'erano molti più dettagli che ti saltavano più all'occhio soprattutto in un ambiente 3d ed è anche per questo che rimpiango moltissimo il periodo cabinato ed il periodo gameboy advance che secondo me sono i punti più alti di di quel tipo di di grafica normale però dopo sono passati al 3d e lavorare è no lo stesso c'è secondo me moltissimi giochi anche oggi funzionerebbero meglio di vedere meta slag x in real engine 5 così giusto c'è c'è un meta slag 3d tra l'altro come ci fu anche il warms 3d sì mamma mia warms 3d però tutte e due una merda sì meta slag 3d fammelo vedere che hanno hanno rifatto ad esempio sempre per rimanere in tema nintendo advance wars che ho rigiocato l'hanno fatto con la grafica smooth l'hanno fatta con la grafica smooth però una merda perché sono tutti pupazzetti credo che l'abbiano fatto più che altro perde potenziare un pochino come pokemon con i cibi anche le così il diamante perla no sì però quel diamante perla era più sensato perché era certo in realtà hanno cercato di in quel caso di fare un links awakening che per me hanno fatto un lavoro eccezionale visivamente hanno riportato bene in 3d e proprio diamante perla l'hanno fatto a metà perché sono degli incapaci l'insawakening così c'è non no beh l'insawakening sì che era in pixel no non era però non è pixel art no adesso la versione insomma cioè c'è se tutto quello che è bidimensionale e ma è allora tutto quello che è bidimensionale pixel art perché no cioè se non ha se disegnato dipende se pixel art è proprio vedi pixel ma no l'insawakening era solo per game boy e per quello che era così e no sì pixel art è quella che oggi chiamiamo pixel art ma no è appunto allora tutto quello che è 2d è pixel art sì sì dell'epoca sì sì però non è nel senso è pixel art perché lo disegni quei pixel ma eh sì nel senso adesso è diventato pixel art però all'epoca era disegnato a mano praticamente era quello il fatto ma erano tutti a mano erano tutti a mano perché era bidimensionale esatto semplicemente la quella che oggi la pixel art era lo lo stato dell'opera dell'epoca e che all'epoca non non c'era scelta era quello esattamente allora pure un gioco c'è tu metta sulla geeks no ci sono gli alieni sì che sono questi questi cappelloni con i tentacolissimi sì che sono bellissimi sono perché sono anche non un po buffi robe così io ormai portato avanti questa mia battaglia che ultimamente gli alieni nei videogiochi nelle opere in generale sono tutti dei cazzo di mostri degli animali dello spazio sono e io mi sono rotto i coglioni io voglio gli alieni come ce li immaginavamo negli anni 90 e ho giocato un gioco che mi ha fatto cagare terribile veramente terribile i grigi ma anche quelli di metaslag che sono dei cosi tentacolosi buffi arrival c'ha quegli alieni lì arrival i film il film arrival si vedevano certo e quelle fanno sì però non si vedevano ma si vedevano degli tentacolazzi però non si vedeva niente erano dietro un muro mezzo appannato dietro il vetro si no però un pochino si vedevano e si intravedevano era simile a comunque molto più psicologico rispetto all'alieno di no però io voglio degli alieni mi sono rotto i con i mostri dello spazio gli alieni quelli con le navicelle tonde sai che è sai che ho visto com'è che si chiama nope sì e sai che è stato molto fico è stato molto strano è stato molto sì mi ha lasciato un po interdetto mi ha lasciato un po interdetto sempre parlando di alieni dalle forme particolari però non non voglio dire altro che perché il film si basa interamente su quello va bene poi poi e io se volete ho giocato last hotel ho ricominciato my time and sandrock e the state agent simulator allora parliamo di state agent simulator perché state agent mi è andata di sfiga che io l'ho giocato in una next fest quindi ho giocato la demo ti descrivo com'era la demo era vagamente interessante ma tutte le funzioni extra non erano disponibili tipo comprare un cavallo giocare al casino tutte quelle cose extra allora si va a caccia è una tutto non disponibile la caccia non c'è ancora sì e non ho provato neanche le gare però ho comprato il cavallo e sono andato al casino sì e comprare partiamo facciamo un passo indietro e diciamo che cos'è il gioco è un simulatore di agenti immobiliare quindi tu ti svegli la mattina vai affitti la casa da da persone a caso per un mese pagando le cifre stratosferiche tra l'altro puoi trattare sul prezzo ma non è vero perché puoi trattare al massimo di qualche centinaio di dollari mi hanno sempre detto di no sì esattamente quindi non c'è neanche una trattativa vera e propria dopo che hai preso la loro casa poi arredarla facendo l'asta dei come si chiamano dei magazzini oppure comprando delle del mobilio al negozio e riaffittarla e ogni giorno tu devi andare da ogni affittuario a ritirare i soldi che ti danno anche 5 mila dollari al giorno fine perché questo è il gioco è carino perché col tablet puoi fare la foto alla alla casa da fuori la devi pulire un attimo la devi riarredare per per aumentare i prezzi però alla fine il gioco si riduce a questo hai una moglie con la quale puoi fare sesso che però non sono riuscito mai a farci niente ma lei ancora immobile in un angolo l'hanno aggiornata e adesso vaga parte da dall'angolo la seconda volta che l'ho giocato hanno fatto questo aggiornamento va a sedersi alla scrivania e se tu a usare il computer se tu le parti dice sono occupata oppure va a sedersi sul divano e tu dici guardiamo un film assieme lei ti dice sì però finito il film lei non c'è più perché se n'è andata via ha giusto certo sì 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 quindi tutto così è in accesso anticipato naturalmente il gioco è però tutti dai la funzione la funzione vorrei passare una serata romantica con te e lei ti dice poi io immagino sia il sesso perché puoi anche fare i figli e lei dice non sono pronta o mal di testa tutte quelle cose lì sono sono pronta ma vivete insieme ma io non so neanche come aumentare l'amore della moglie ho provato anche a ridare un po la casa che è l'unica cosa che posso fare però le puoi chiedere dei soldi e lei ti dà dei soldi me lo ricordo volendo sì perché ho giocato malissimo all'inizio perché era un po non era chiarissimo come vendere acquistare le case perché non c'era il tutorial non c'è c'era un pezzettino di tutorial c'erano solo un pezzo comunque sembrava carino guarda non ho finito ho comprato il cavallo per non comprare la benzina ho comprato il cavallo e poi ho iniziato a giocare il casino per fare soldi più velocemente che c'è i perks io mi sono aumentato la fortuna e comunque il casino o vincevo la grande o perdevo tutto e ho perso tutto diverse volte e non c'è altro perché il gioco in realtà è vai tutti i giorni a riscuotere l'affitto tutti gli extra ovvero andare a giocare al casino è l'unica cosa che tu puoi fare oltre ad andare a prendere l'affitto tutti i giorni ok anche le gare in macchina che puoi fare ma sono solo a giorni alterni perché il gioco vuole comunque farti acquistare le case e arredarle ma è una rottura di coglioni lo so lo so e infatti aveva del potenziale però il loop in cui mi ha mandato era molto tutto uguale cioè esci di casa apri il tablet o vai in ufficio e vendi vendi e compra le case ma basta non c'è non ci sono missioni particolari non ci sono non succede niente di diverso dalla routine infatti io speravo nel casino nel nella caccia nel nella roba lì perché se no non c'è niente se no dopo due tre ma guarda che secondo me anche con la caccia poi non è che diventerà tutta sta gran roba no però è un'attività secondaria che e ho detto magari lì partono delle delle secondarie che ne so invece no 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 ne dubito invece su questa falsa riga di estate c'è my russian village è un è un simulatore di villaggio russo ma è veramente veramente bello cioè nel senso è approfondito devi fare tremila cose puoi fare di tutto ed è molto carino veramente molto carino ma il tuo ruolo si chiama cittadino normale che fa la sua vita è il solito dove devi prendere gli animali life sim esatto però è un vero e proprio life sim quindi ci sono le missioni ma russian village simulator si chiama aspetta vediamo e quello è uno di quelli dove te li metti qualcosa in sottofondo inizia a fare frutta verdura gli animali prosciutti cose e poi viaggi c'è questo villaggio enorme dove puoi viaggiare puoi andare a caccia puoi fare mille cose ma bellissimo c'è anche la la casa di babayaga con le gambe di pollo esattamente tipo tipo esattamente ma aspetta ma è molto simile a quell'altro gioco dove sei il sempre russo quelli e quello lì che gli sono morti i genitori tutti quanti e deve vivere la sua vita nella fattoria come cazzo sono tutti uguali sempre così anche tipo star two valley così più o meno sì meno drammatico però sì bello questo russian village sim questo qui è carino nel senso che è molto giocabile volendo poi può essere un gioco vero a farmer's life farmer's life esattamente anche anche la cover del gioco mi ricorda esattamente quello è poi tipo è tipo però forse farmer's life è molto più tecnico questo è molto più live sim quindi puoi fare mille cose ci sono 3000 npc che ti danno 3000 quest ed è che tienitelo lì che secondo me è carino cioè mi sono preso bene perché poi devi anche solo per comprare una gallina ci vuole un po capito un po approfonditi però non troppo come non farmer's life l'altro quello ambientato medieval dynasty è proprio un incubo un incubo no però è molto più diluito cioè anche lì poi dopo ci sono quest hanno aggiunto di tutto è bellissimo anche la co-op se vuoi medieval dynasty ha messo la co-op yes figo a proposito di co-op visto che qualcuno in live lo citava ho giocato anche insieme a lino volevo sapere com'era perché celoma non l'ho ancora avviato è bellissimo cioè è proprio un simulatore di aeroporto però non di aeroporto di operatore di aeroporto per esempio per farti capire tu devi far tu devi far tra le cose che puoi fare c'è far scendere le persone dall'aereo ma scendere le persone dall'aereo vuol dire aspettare l'orario in cui atterra andare con la gip con scritto follow me dietro che si illumina per spostare l'aereo nel gate dove devi spostarlo capito tutto in prima persona e vai a porti l'aereo poi devi ci sono cose che io non sapevo neanche si facesse nell'aereo prima di far scendere le persone tipo prima svuoti il cargo dai bagagli ok ma poi devi attaccare un enorme usb all'aereo con un generatore per fare in modo che l'aereo sia attivo ma spento quindi tu fai poi chiami la crew e dici spegnete l'aereo e tu intanto gli attacchi sta roba e poi devi muovere il sai quel ciuccione esattamente devi attaccarlo fino a quattro persone si può giocare tra l'altro questo gioco e niente quindi è stato è stato proprio super simulativo serve giocarlo fino in quattro perché molti simulatori purtroppo hanno il problema che c'è la coop puoi giocarlo in di più però c'è uno che è così esatto c'è tipo c'è una cosa da fare gli altri stanno a guardare spesso e quindi no è perché le cose da fare sono molteplici che tu puoi fare contemporaneamente tipo tu puoi sia perché attaccare l'usb vuol dire prendere il generatore attaccarlo con un trattorino e portare uno guida il trattorino l'altro prende il coso esattamente l'altro intanto collega il ciuccione l'altro ti toglie i bagagli e li porta perché poi devi prendere i bagagli e portarli ai rulli dentro i magazzini devi mettere singolarmente i bagagli nei rulli per farli andare poi all'uscita è tutto così molto simulativo ma super semplice niente di troppo complicato sì abbiamo perso un paio di voli bellissimo è da provare allora in quanto poi non credo cioè non so quanto sia divertente perché non era divertente perché è un simulatore esatto quindi ve lo consiglio perché ce l'avevo lì da un po ed è stato molto bello è perché ce l'ho lì anch'io è che per la questione inglese come al solito l'ho sempre tenuto lì ad aspettare di giocarlo poi ho visto che lo stavate facendo anche voi ho detto magari non mi hanno invitato sono rimasto male ho pianto no perché a me ha invitato lino e quindi ho detto lo faccio con lino ah io ho provato a me mi hanno invitato a giocare shrek kart vabbè cazzo è shrek kart non lo so stiamo facendo i cazzi miei stavo montando mi è arrivata la richiesta da lino vuoi giocare con me a kart dreamworks non c'è nessuno là ho capito ah kart dreamworks ho capito quale sì io ho giocato invece a risk of rain returns oh com'è cos'è una remastered è praticamente è una remastered del primo quindi in 2d però con le aggiunte del secondo tutti gli oggetti le modalità le altari le cose del secondo hai una caffettiera che ti va in casa è la stufa è la stufa ok mi metto così forse è già un pochino meglio ma eh che caffettiera è un ho chiesto un rimborso eh lo so perché purtroppo il difetto è che in 2d eh sì e non ci capisci già nel nel 2 e a una certa è un casino il problema è che in 2d non ci capisci più un cazzo zero proprio sì e quindi un disastro però è immagini del primo non del remastered ma del primo primo cioè è così ma con dei pixel è bello eh beh era quello eh no è più semplificato ancora perché qua sono tipo sprite piccoli lì sono proprio praticamente è molto bellino un estetico a me piace quella pixel art lì ma è anche quella dell'originale il problema sì quella dell'originale era più ancora più lontana era tutto piccolo così perché minuscolo il rischio è piccolo piccolo però è appunto il problema è che non ci si capisce un cazzo una certa ma tu in 2 l'hai giocato? io? eh sì ok sì sì ne avrete parlato anche una moca se non sbaglio probabile ma io per me l'unico difetto del 2 è che è endless e essendo endless ho fatto più run dove finisco per essere OP come lo schifo e devo morire per forza perché non altrimenti non muoio mai no perché una certa raggiungi perché una certa raggiungi come funziona rischio frame è a tempo nel senso più tu vai aspetti per andare avanti cioè più passa il tempo più aumenta la difficoltà e quindi se ci metti mezz'ora a finire un livello cioè o rimani mezz'ora in un livello comunque la difficoltà aumenta eh il problema è che se cioè a una certa il cap di difficoltà lo raggiungi e se te sei troppo forte cioè giochi all'infinito sì letteralmente ci sono delle build dove non puoi più morire infatti sì arrivi rischio frame è l'unico gioco 3d l'unico roguelike 3d dove puoi arrivare a rompere il gioco anche peggio di Isaac probabilmente sì sì cioè arrivi che tu entri nei livelli e vedi che fai danno a nemici dall'altra parte del livello che stai guardando dall'altra parte dell'open map proprio vedi proprio poi sì è molto solido c'è gente che è arrivata a romperlo talmente tanto che appena inizi e si frizza tutto ma non crasha mai non crasha mai è solidissimo eh sì perché ma c'è dopo tante tante ore con mod cose insomma l'hanno sfondato che non ci arrivi nel gioco normale a sfondarlo così tanto però sì è secondo me è uno dei migliori in assoluto proprio è molto bellino è pieno di roba da sbloccare impossibile anche da capire quasi a volte con la community devi metterti lì a capire come fare le cose maledetti voi i roguelike sti giovani eh però sono fighi cioè quando sono fatti così sono belli belli davvero invece Karim è il multiplayer di COD è giocato sì ho giocato allora sto finendo Modern Warfare 2 perché volevo farmi tutte e due le campagne prima di giocare la terza perché vuoi giocare la terza? perché hanno detto tutti che è la peggior campagna di COD mai fatta non degli ultimi proprio in generale no no ma è proprio io non capisco cioè lo capisco perché poi sono uscite fuori delle notizie che fanno mettere le mani nel culo cioè non solo ha detto scusa è quella che ci ha lavorato sei mesi ha questo COD sì e quindi per forza di cose no certo ma come ti dicevo anche domenica scorsa del 2 doveva essere esatto ma non solo cioè la gente ormai gioca sempre meno le campagne e vogliono giocare a Warzone anche l'online credo che sia passato assolutamente in secondo piano non lo so più più o meno anzi secondo me un pochino ha ripreso anche con MV2 l'online sì ha ripreso però non credo che raggiunga i numeri che fa Warzone e beh grazie al cazzo Warzone è gratis però ovviamente loro buttano le risorse su quello infatti questa campagna però il gioco te lo fanno pagare 70 euro dei pezzi di merda certo ma infatti questa campagna è improntata per buttarti dentro Warzone oppure sapevano tanto adesso compra Microsoft quindi stica sì il problema di quello che ho letto è che proprio non è solo per buttarti dentro Warzone ma è proprio Warzone con delle missioncine ma è pensato per quello per poi dopo introdurti a fare quello non ti introduce niente e no è quello il problema secondo me non sapevano non avevano tempo per fare le missioni vere e proprie ma come potevano non aver tempo dai è una stronzata questa cosa qui infatti ci hanno messo molto ma il bello che avevano detto non c'era più un Call of Duty all'anno e c'è uscito ma al di là di tutto loro comunque avevano tutto il tempo usciva già un Call of Duty all'anno fare la campagna cioè bastava mettere le solite risorse facevi la campagna più o meno bella e via il problema è che questa sarebbe dovuta essere la chiusura di Modern Warfare della trama di Modern Warfare che comunque non è vero non l'ha mai detto no nel senso deve essere una trilogia è la trilogia perché tu immagini la vecchia trilogia ma questo non ho mai detto che sarà una trilogia e quanti cazzo ne devono fare se va bene anche 5 o 6 tra l'altro io li ho rigiocati perché me li ricordavo veramente poco e sono le poche campagne che mi ricordo poco le ultime dei code le ho giocate tutte ma non me le ricordavo comunque ho giocato Modern Warfare 1 nuovo ovviamente ed è molto bella la campagna ha delle missioni Modern Warfare 1 remake o remastered o no la nuova la nuova sì la nuova ok ed è molto bella perché è un pelo più incentrata sul realismo ma ha delle missioni belle di flashback di Pharah del protagonista femminile che c'è e ha delle missioni proprio fighe ho giocato Modern Warfare 2 Moro la noia di merda che è quella campagna lì tu te la ricordi la campagna di questo Modern Warfare 2 no io mi ricordo solo la roba nella neve all'inizio no quello è vecchio Modern Warfare 2 ah l'hanno cambiato no ma non è un reboot scusami è un reboot non li ho giocati quelli nuovi io ho giocati i vecchi ok non è proprio un reboot questo qui cioè ci sono gli stessi personaggi ma la trama è tua diversa come non detto questo c'ha ste missioni grosse di una lentezza inenarrabile io non ci credo che mi sono rotto i coglioni a giocare a sta campagna di Modern Warfare 2 mamma mia aspetta di arrivare al 3 c'è sta missione dove dei cecchini è pieno di missioni stealth prima di tutto e vabbè ma c'è sta missione dei cecchini dove hai lui sopra e tu dove ci sono le paleoliche giganti hai questa base davanti a te piena di piccoli nemici e tu devi mirarli singolarmente e lui ti dice non sparare da qua allinea i due nemici quindi devi togliere il mirino correre andare a vedere se riesce ad allinearli per spararne i due con un colpo solo ed è molto meglio del 3 così però lo stai descrivendo mi riguarda quasi quasi penso di tornare a giocare il brutto perché tu ancora il 3 non l'hai giocato ma il 3 poi ti illude sono dei io non lo so cosa cazzo i trailer non erano quello che mi hai descritto tu il 3 i trailer che sono il trailer l'unico credo il trailer gameplay che è uscito è della prima missione quando avvii il gioco no ce n'erano due c'è la missione del dell'aeroporto no del salvataggio del salvataggio quando vai a liberare Makarov ok all'inizio vai nella prigione questa qui sta prigione in mezzo al mare e robe così di notte col rampino vai su poi vai un po' stelto e un coso e poi scendi giù con i cosi vabbè e c'è quella lì una missione classico stile Call of Duty dopo di quella sono tutte missioni cioè te ti butta ti paracaduti nella zona open map c'hai gli obiettivi nella mappa devi andare agli obiettivi a fare le cose ma te poi anche tipo ti descrivo la terza missione ti droppi giù dall'aereo c'hai sono tre elicotteri con i fumogeni che devi andare a far esplodere e nel mentre in giro trovi le casse di Warzone da lutare per l'equipaggiamento e robe del genere te volendo puoi rushare lanciare il C4 fargli esplodere andare al prossimo fargli esplodere poi trovi in giro trovi anche i tablet con il missile Predator e quelle robe lì quindi proprio non hanno cambiato niente no è Warzone punto quindi tu trovi il Predator e bombardi col Predator e poi finisce è finita la missione certo quindi sono proprio piccoli obiettivi che volendo potrebbero mettere in Warzone sì sì esattamente cioè come su Fortnite ci sono le missioni del genere ma infatti è per quello che secondo me non si sono proprio impegnati perché hanno visto dove sta andando la maggior parte del pubblico ma la prima missione l'ha fatta e vabbè perché è qualcosa di figo ma che cazzo fate stanno facendo una missione vera cretini fate Warzone fate a meno che veramente non abbiano mollato il colpo perché sapevano che stavano per essere acquisiti e poi dopo le cose sarebbero cambiate se lo sviluppo è stato sei mesi probabilmente è andato anche così sei mesi sei mesi non sono un cazzo hanno deciso loro di fare ma non è che li ha costretti qualcuno ha detto adesso dovete farlo uscire no 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 ma che peccato invece il multiplayer Karim l'hai provato? sì ho provato il multiplayer ho provato c'è una nuova modalità io non lo sapevo si chiama Warzone cioè non si chiama Warzone si guerra no guerra terrestre è quella che c'era già no ce n'è un'altra rossa c'è l'altra è la modalità corsa di Battlefield dove praticamente tu fai più missioni diverse esatto la modalità corsa di Battlefield ci sono due bombe e tu devi andare a distruggerle e poi vai a quelle dopo queste invece sono tipo tre o quattro missioni diverse una dietro l'altra una magari sono le due bombe l'altra è porta il carro armato tipo quella di Overwatch devi stare vicino al carro armato e lui va avanti mentre gli altri lo difendono capito e ce ne sono due o tre così è carina come modalità è carino cioè io ho sempre adorato la modalità corsa di Battlefield però su code è diverso su code è diverso è un gioco diverso esattamente esattamente e poi ho provato un online normale io ho provato tu la beta l'avevi provata l'open beta di code non credo sì 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 una volta sola sì porca troia io nell'open beta ero un drago mi ero divertito un sacco e facevo i culi e tutto qua porca troia sono una sega e non capisco lo sento proprio diverso ma lo sento proprio diverso non lo so boh più pesante no non è non te lo so neanche spiegare però cazzo non è normale che lì ero così tanto forte e qui così tanto una sega sono stato sempre forte su code quindi boh beh ma magari ti hanno banalmente messo con i super campioni io ho riavviato Halo Infinite perché avevo voglia di giocarci la prima partita ho fatto i culi e poi mi hanno messo con gli dei ma proprio la prima partita sono andato bene tutte le altre ho succato ma male malissimo ma non è mai successa questa cosa beh in realtà sì cioè una volta che raggiungi un certo cioè tu sempre campionissimo di code su code sì su code me la sono sempre cavata bene io su code c'ho il tra virgolette il problema nel senso magari c'è la giornata c'è la giornata che non c'ho le mani però sì in generale in generale me la cavo molto bene sui code qua è stato tosta tosta non lo so io ho sempre avuto lo stesso problema sui code ma in generale quando arrivi ad un certo livello succo perché so troppo forti perché tu sei bravo contro code sono io quello forte quello il fatto ma c'è gente molta più forte me la sono cavata però è proprio il ritmo di gioco negli ultimi anni di code che è cambiato completamente adesso il ritmo è molto più competitivo ma su mv2 ma su mv2 guarda che me la cioè su mv2 ero forte e questo qui tecnicamente è mv2 con le mappe diverse però non lo so bisogna vedere quanto c'è giocato in che periodo di modern warfare 2 classico sì ma poi ripeto nella beta nella beta ero forte poi nella beta per carità nella beta magari c'erano un sacco di seghe eh esatto perché la beta l'hanno provata tutti però mv2 era cioè mv2 no l'unica cosa che perché io li ho giocati costantemente non più in modo approfondito quindi io dopo una ventina di ore mi rompevo le balle e smettevo il problema è che adesso non riesco più a fare più di due o tre kill alla volta cioè appena io mi riposiziono muoio cioè o rimango o tengo una zona e la difendo da tutte le entrate e allora forse riesco a fare un po' più di perché il problema più grande per me sempre stato negli ultimi anni con COD è che lo spawn cambia ogni 10 secondi cioè la gente corre e salta da tutte le parti e lo spawn se tu riesci a fare un mezzo giro di mappa uccidi tre nemici e poi ce li hai ovunque non è più come prima io ho ancora il ritmo di gioco di Modern Warfare 2 classico dove tu la mappa te la potevi fare a cerchio più volte se tu eri bravo a sparare i nemici li avevi sempre davanti sempre davanti quindi se ti arriva nel culo non solo dietro da tutte le parti e il problema è che non riesco a starci dietro non riesco a starci dietro più però se ci pensi è sensato perché quando muori devi risponare in un punto dove non lo prendi per forza nel culo da quelli bravi come te che stanno girando no ma infatti loro non è che mi spawnavano davanti prima era sempre dall'altra parte capito cioè tu facevi il giro facevi tu cambiare lo spawn ai nemici e bom 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 si cambiava lo spawn tanto perché prima potevi stare anche due o tre secondi senza dover sparare adesso è un incubo adesso cazzo ti flasha la vita davanti agli occhi ogni volta che spawni e quindi manca bilanciamento da quel punto di vista lì che però con le mappe di Modern Warfare 2 ho capito che uno dei gravi problemi di COD negli ultimi anni erano le mappe perché le mappe di COD cioè le mappe nuove non che ce ne sono tipo c'è Wasteland che faceva schifo Moro c'era un meme prima dei meme in Wasteland che era Wasteland Skip si chiamava cioè che quando appariva tutti la schippavano e l'hanno rimessa nessuno la voleva fare Wasteland l'hanno rimessa apposta nessuno la voleva fare e magari per per ridere un pochino per il meme perché serve quella cosa lì ogni tanto sai però cosa dovremmo provare di questo Modern Warfare 3 zombie e ha messo zombie su Modern Warfare l'hanno messo nella mappa open dove hai le missioni da fare tipo un mezzo survival in realtà non proprio però eccolo ci potrebbe stare così si potrebbe ma è proprio modalità survival o no non è proprio un survival ma è zombie però open con le missioni da fare in giro insomma a me zombie ha sempre fatto caccare purtroppo uguale a me ha fatto per me è la peggior modalità di COD che mi attira sempre perché sono fighi gli zombie però sono sempre orde capite l'orda terribile era figo forse erano in Modern Warfare 2 che eri nella stanza e loro ti sfondavano non c'erano gli zombie in Modern Warfare 2 no no il primo era il World at War c'era il World at War il World at War che l'ha fatto nascere la modalità zombie quella è quella dentro la casa e loro ti sfondavano quello era quello World at War era il Seconda Guerra Mondiale esattamente era nazisti zombie nazisti certo ci facevi due round e poi mi rompevo infatti era sempre la stessa roba era figo solo per l'ambiente poi dopo l'hanno evoluto con un sacco di robe fuori di testa mi piace molto per lo stile che hanno adottato per zombie e dà molto più carattere quello se ci pensi che tutto il resto di COD c'era la pistola aliena c'era delle cazzate però ogni volta l'ho avuto e questo qua invece potrebbe essere la volta che gioco zombie dopo tanti anni bisogna vedere con un libro se lo voglio provare fatemi sapere dove lo compro anch'io e certo non l'ho proprio preso questo COD ma mi sa che no neanche nessun Mother World questo COD che cazzo hai preso tu di COD minchia li ho giocati tutti fino ai rebuttoni ormai sono dieci anni fa eh va bene che vuol dire però sono tanti ce ne ho giocati tanti Moro a te nei menu sto cazzo di COD è stabile in che senso perché ogni volta che io apro qualcosa un menu una roba minchia ci mette tre ore perché c'ha il caricamento degli shader però perché c'è neanche l'SSD no l'ho installato sull'SSD l'ho installato sull'SSD e no il problema è che il gioco parte perfettamente quello è il problema e i menu sono un incubo a parte i menu sono un incubo in generale a me non da non ha dato problemi credo però no è tutto c'è ogni volta che torno nel menu me lo aspetto nel senso già solo che la prima volta che avvii il gioco lo devi riavviare tre volte ma do che prima allora tu avvii il gioco poi selezioni il multiplayer ti riavvia adesso non più mi sa però quando selezioni la modalità ti riavvia il gioco poi ti ti dice l'aggiornamento dalla lista del multiplayer riavvia il gioco lo riavviti c'è un altro aggiornamento riavvia il gioco ho capito quando cazzo gioco verissimo verissimo ma perché ha fatto ma fai un launcher in finestra allora si a quel punto come scusami ma avrebbe più senso perché almeno ti aggiorna tutto da fuori e poi parti 200 gigabyte di roba da scaricare 200 gigabyte se non sei pazzo 70 70 perché hai tolto tutto eh cioè che cazzo però te lo fa fare Steam è solo un multiplayer no anche sul Battle.net no mi sa solo il Battle.net no no anche su Steam su Steam devi andare proprietà DLC o qualcosa c'è tutte le robe lì da togliere il Battle.net te lo chiede mentre lo scarichi cioè mentre lo installi sì sì no puoi scegliere prima non è che non è come eh cosa Flight Simulator che devi aprire il gioco e far partire 80 giga di sì magari 250 giga di download no fortunatamente lo scegli prima questi shader di merda che stanno sempre cioè io li aspetto aspetto poi lo riapre di nuovo deve ricaricarli sì 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 perché basta un micro aggiornamento di qualcosa di rifare tutti ma non solo ci mette ci mette ecco io con anche con Warzone ogni volta che lo aprivo ma nel giro anche della stessa giornata dovevi aspettare che aggiornasse di shader quindi eh ma che palle cioè è un costante cioè i menù poi tipo io sto mi metto in coda per trovare una partita sto modificando le armi quando mi entra dentro la partita si frizza tutto cioè non riesco a fare niente per tipo 15 secondi finché non mi entri sta cazzo di partita ma che palle quello è perché ti nerfano perché sei troppo bravo ma che palle poi i menù delle armi mia che incubo è tutto poco intuitivo no è tutto una merda i menù non so chi cazzo sia stato dietro ma è un disastro poi adesso che hanno voluto far sta cazzo appunto dico mettete il launcher in finestra normale perché adesso non esiste più Call of Duty Modern Warfare 3 Call of Duty Modern Warfare adesso esiste Call of Duty è vero adesso è Call of Duty è tutto insieme tu quando installi Call of Duty ti decidi cosa ti chiede cosa vuoi installare MW3 campagna MW2 campagna MW2 cioè tutto ma se si scrive diventerà così bella cagata speriamo un po' meglio adesso è un po' meglio no un po' meglio di menu almeno sono un po' più intuitivo è carina l'idea anche di Ubisoft di voler mettere tutto assieme ma sembra che vogliono semplicemente accentrare tutto ma perché dovrebbero mettere tutto assieme ma io voglio giocare a un gioco e l'animo eh sì lo fanno anche la stessa cosa per COD per tenerti all'interno dell'ecosistema esattamente perché dici ah questo non ce l'ho me lo compro è letteralmente Netflix esattamente però Ubisoft è Ubisoft cioè ha tutti i suoi giochi il suo Uplay anche volendo è vero però aspetta Assassin's Creed bypassa tutto cioè ormai hanno c'è Assassin's Creed e c'è il resto è troppo importante Assassin's Creed cioè è l'unica roba che immagino stia tenendo viva l'azienda non capisco comunque la manovra sì a parte che boh non so neanche quanto perché eh ma vediamo quando uscirà il prossimo l'anno prossimo sì oh sì ne devono uscire 18 ne devono uscire sì però è già uscito sì Mirage ma non se l'è caccato nessuno ma carino comunque Mirage molto carino sì sì ne hanno giocato in tre eh vabbè noi che già abbiamo giocato è carino voglio proprio un gioco carino beh guarda quest'anno mi sta anche bene cioè non è che posso giocare sempre i top proprio quest'anno voglio giocare le bombe solo bombe ma che coglioni basta basta voglio le bombe 100 ore non ce la faccio eh esatto va bene c'è ancora gli spiderman eh io devo giocare devo giocare appunto Like a Dragon Gaiden questa settimana e adesso me lo giocherò appunto questa qui che viene di settimana perché sembra bello anche quello per i miei gusti perché poi vabbè il gioco è è uno yakuza però è figo è proprio atmosfericamente yakuza mi piace troppo proprio bello ah poi ho giocato Exanima ah già hai giocato Exanima sì sì perché gli ho detto di giocare la settimana scorsa che l'avevo giocato anche io bellissimo allora secondo me sul pad col pad è meglio perché ho visto che c'è anche per console scusa eh allora cos'è Exanima è un source like isometrica ma non è un source like per niente che è un source like no un action un action sì isometrica eh roguelike perché comunque non è neanche roguelike per niente come no muori e ricominci da zero che cazzo è scusami non è un roguelike se muori e ricominci da zero gatto è un roguelike un gioco senza senza salvataggio però era però è tutto randomico non è roguelike no roguelike i roguelike sono quelli che ti danno dei perks passivi per andare avanti e insomma e quello ti dà perks passivi per andare avanti Exanima sì che cosa ti dava ma quando muori i permanenti cioè rinizi con le cose tue no ricominci con i perk se raggiungi e ne aggiungi ti te li lascia quelli ah ok non me lo ricordavo questa cosa per me è roguelike questa roba qua sì 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 quella roba lì sì non è solo slike neanche un cazzo di niente però quello no no è solo slike no perché poi dopo non puoi recuperare un cazzo no effettivamente o sì roguelike sì 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 roguelike sì nei roguelike ricominci da zero e basta io per me è roguelike fino ad adesso perché ho ricominciato sempre da zero perché non sono arrivato al esatto sì al punto in cui è roguelike finché non ha raggiungi il roguelike esattamente perché nel roguelike diciamo che è dalla seconda mappa che poi parte il random vero io non l'ho superata la prima quindi sono rimasto sul random poco random quindi le stanze erano sempre le stesse cambiava il loot i nemici però erano sempre gli stessi io in un rano ho trovato un mpc che poi mi seguiva anche io è morto ma è uscito ex anima o è ancora in accesso anticipato non credo perché non l'ho voluto mai più giocare prima dell'accesso anticipato mi sa che dovevi aspettare ancora un bel po' e allora è stata un'esperienza molto carina perché devi muovere con il mouse no? sì c'è la fisica c'è la fisica puoi cadere io l'inciampi che ho fatto ho riso come un coglione sì molto carino però arriva la frustrazione e quando arriva io l'ho odiato è stato carino perché la gente rideva di me in live per l'amor di Dio letteralmente sono morto cadendo una certa sì no io no però ho preso tante parole perché poi cammina proprio come un deficiente sì sì io l'avevo fatto anche cicciottello combatti camminando indietro e c'è uno sgabello in ciampi cade tutto lungo per te sto coglione allora è carino però l'ho trovato fin troppo lento anche nei combattimenti perché devi darti la tempistica nel senso che devi aspettare che attacchino loro e poi devi colpire con la parte giusta dell'arma devi colpire con la parte giusta dell'arma ma anche col giusto tempismo perché ti devi levare dal cazzo perché tu colpisci una volta e loro venti c'è però la modalità non so se l'hai fatta la modalità arena no c'è come altra modalità dal menu principale la modalità arena dove tu ti fai sempre il tuo personaggio e tutto ma sei tipo un un padrone come si chiama quello che hai hai gladiatori poi sì è vero me l'avevi detto cioè in realtà puoi anche combattere tu col tuo personaggio però puoi assoldare degli schiavi e robe del genere così da puoi mandare le giornate puoi mandarli a combattere nell'arena li comandi tu puoi noleggiare dei mercenari anche che ti aiutano a combattere che non li comandi tu e ci sono tutte le varie giornate e diventa un gestionale che riduce semplicemente al combattimento senza però ricominciare da zero però c'è la parte gestionale c'è mi ha parlato Siri ho avuto paura Siri? cosa c'è? un iPad sì è che lo sto caricando è fatto bene che si scarica dopo eh sì è un casino sulla stessa cosa dell'arena io venerdì notte ho giocato ho rigiocato perché l'avevo già giocato a inizio anno è who we are about to die si chiama ah sì sì che anche lì c'è la fisica con i gladiatori più o meno la fisica sì e quello di gladiatori sulla cioè tu è anche quello è roguelite nel senso che tu ti fai il tuo gladiatore eh vai a fare i combattimenti nell'arena ci sono tipo ci sono i patron che organizzano questi eventi quindi poi c'è il favore dei patron e robe del genere devi scegliere tra tre incontri ogni settimana che possono essere qualsiasi due contro uno uno contro uno e diciotto contro diciotto robe del genere e anche lì il combattimento l'hanno un po' modificato dall'ultima volta il combattimento è anche un pochino strano no con la fisica un pochino con la fisica nel senso che te puoi fare lo swing e se premi il tasto per lasciare l'arma la lanci tutte ste robe qui è molto carino poi dopo appunto tra un evento e l'altro tra una settimana e l'altra c'è tutta la roba per comprare le armi per curare il tuo gladiatore per potenziare tutte le cose tutta la parte gestionale tutto in inglese purtroppo quando sali di livello ci sono succedono tipo anche degli eventini tipo questo patron ha deciso di fare una statua in tuo onore e tu puoi scegliere come rispondergli tutte queste cose qua ma figo è molto carino è in accesso sì molto però è molto cioè può diventare molto carino è un pochino lento per quanto riguarda poi non lo so più avanti com'è perché tu ogni match fai soldi in base anche al pubblico come reagisce al tuo incontro in basso a sinistra vedi il pubblico cosa vuole il pubblico a grande voce chiede che cambi arma ma tu puoi buttare l'arma e raccoglierne un'altra per terra no? queste robe qua però cioè cazzo fai pochissimi soldi porca troia io ogni volta nella settimana vai a comprare le cose al mercato costa tutto troppo cioè te non fai un soldo e devi usarli per curarti e robe per evitarti di arrivare subito alla fine non lo so perché te poi dopo tipo quando sali di livello ti dai perk tra virgolette che possono essere il 20% di sconto al negozio oppure 2000 oro per il prossimo personaggio ci sono tutte robe per il prossimo personaggio spesso no? però boh perché come concetto come concept mi piace un botto il gioco è fighissimo è molto carino speriamo uscirà una volta chissà è ancora lo 025 di madonna niente è in alfa probabile sì invece vi volevo consigliare un gioco che vedo che la community ne parla che però secondo me non è così tanto bello come sarebbe potuto essere però l'ho giocato fino a un certo punto quindi un consiglio negativo no è un po' particolare va a gusti personali secondo me a una certa si chiama Lunacid Lunacid ah ho capito ed è un gioco in stile Kingsfield quindi giochi vecchi vecchi di From Software sì sì credo sia proprio fatto sulla linea per rifare un Kingsfield esattamente che tra l'altro si sbrigassero a fare i Kingsfield un po' più moderni nel senso a riportarli moderni che almeno li giochiamo comunque perché From ha fatto dei giochi stranissimi ma tipo Tower Shadow Tower Shadow Tower ma è follia pura quei giochi lì mi piacerebbe giocarli comunque è un Kingsfield like quindi è un dungeon crawler di quelli proprio vecchio stile in prima persona un po' di legno a livello di gameplay perché devi imparare a fare gli swing con la spada e a difenderti dai nemici tutto pieno di misteri alla Souls quindi devi leggere tutto parlare con gli NPC eccetera eccetera ed è stilisticamente anche a livello di gameplay molto figo il mio problema con Lunasid perché tantissimi lo stanno consigliando perché è anche uscito dall'accesso anticipato è che ogni singolo livello è un labirinto io l'ho perché è randomico no è semplicemente fatto in modo da avere tanti corridoi che si collegano con altri corridoi perché una volta erano letteralmente lo screensaver di Windows 98 esattamente e a me fa cagare perché l'esplorazione diventa un tedio gigantesco che ti porti sulle spalle ed è l'unico problema per me che non me l'ha fatto apprezzare e continuare è che è ogni singolo bioma che tu usi è un labirinto cioè no labirinto non nel senso che ti perdi ma nel senso che a volte fai fatica a capire se di quasi ci sei già passato o no quello è il problema a volte guarda su questa riga io ti consiglio invece Blood West che ne abbiamo già parlato sì è lì è lì che lo devo giocare anche esteticamente tra l'altro guarda solo che anziché usare la spada spari che magari è anche più nelle tue corde è un po' diverso da quel che ho capito non è proprio un non l'ho ancora comprato tra l'altro no non è un Kingsfield like è più un survival diciamo non è più in realtà è sempre lo stile souls siamo lì in realtà perché comunque è sempre roguelite tu muori perdi alcune cose altre cose non le perdi c'hai i perk ti puoi potenziare quindi fare più danno con un'arma oppure avere più vita oppure correre di più ed è proprio in stile dark souls 1 tu parti da un punto e esplori la mappa puoi andare dove vuoi ci sono punti in cui i nemici sono più cazzuti altri meno e ti devi leggere tutti gli oggetti per sapere la lore però si spara sì ho visto sembrava interessante però è anche lì in accesso anticipato quindi mi sembra che abbia due capitoli come tutti che è buono che abbiano introdotto i capitoli nel senso che man mano arriva un nuovo capitolo così te lo puoi giocare però io non sono riuscito a finire manco il primo quindi sì sì so che è abbastanza tosto e anche lunghetto nel senso se te lo esplori tutto sì e io come ne ho già parlato al come alternativa anche se non è simile a Lunacid vi consiglio Dread Delusion che tra l'altro secondo me è anche indirittura d'arrivo secondo me inizio dell'anno prossimo esce si chiama Dread Delusion ed è un gioco di ruolo in prima persona un po' Kingsfield un po' Morrowind diciamo lì in mezzo con grafica stile playstation 1 che è bellissimo è bellissimo cioè è proprio bello bello è uno di quei giochi ne avevamo già parlato se non sbaglio di questo o l'hai fatto in live credo fosse premoka questo addirittura eh sì è probabile sì perché è uscito da un po' però in accesso anticipato ancora ok no perché lo sto riconoscendo me lo ricordo perché era nella DreadX era sì era nella prima PS1 Haunted Demodisc non era nella DreadX è distribuito da quelli della DreadX la DreadXP ed è veramente un ottimo gioco molto difficile molto criptico molto esplorativo ma è quel tipo di gioco che non ti accompagna da nessuna parte cioè tu arrivi e da lì esplori parli con le persone fai le quest con questa grafica molto è una grafica proprio playstation 1 però moderna è molto misterioso molto esplorativo è bello ti affascina perché quel tipo di giochi là mi ricorda come farti entrare in un mondo c'è Dark Souls 1 che la difficoltà non è lì per farti rosicare ma è lì per farti esplorare il mondo e per farti scoprire il mondo e quindi è bellissimo lo sto andando sto andando avanti piano piano perché in accesso anticipato non voglio raggiungere il limite però secondo me è meglio di Lunasida anche se diciamo che sono un pello diversi sono un po' diversi abbiamo ripreso in mano Starbound questa settimana attenzione perché dovevamo riprendere in mano Range Simulator la mattina sì ma perché non l'avete fatto? perché non funziona il multiplayer benissimo adesso che è uscito non funziona il multiplayer ma l'avevate già fatto se non ricordo male sì ma l'avevamo fatto quando non c'era niente volevamo riprovarlo per vedere giustamente cos'altro c'era non funziona il multiplayer quindi all'acchi come parla quindi quindi abbiamo aperto Starbound abbiamo iniziato Starbound dopo secoli e noi Starbound cioè si parla di forse dieci anni fa ormai ci siamo conosciuti fra un po' con Starbound praticamente sì e naturalmente è completamente un altro gioco la trama c'è tutto adesso c'è un sacco di robe diverse già da ormai un po' di anni credo sia così e e porca vacca quanto è bello perché c'è soprattutto adesso che ha una linea nel senso è più guidato c'ha sì e beh sì perché adesso c'hai una quest principale e tutto quanto le cose da fare è molto guidato e è proprio bello anche come cosine da fare come accortezze e tutto è proprio figo non mi ricordavo neanche avesse un pro cioè un mini prologo non ce l'aveva non ce l'aveva il prologo tu dici quello nella che ti fai ti gradui sì fai la gradation celebrationly e e poi succede il finimondo con i tentacoloni e poi ti risvegli nella tua navicella rotta ci sono i mecha adesso che puoi fare le missioni con i mecha nello spazio a scendere anche nel pianeta con i mecha e tutte queste robe qui cioè è pieno di roba e poi è proprio bello ed è cioè rigiocandolo l'unica cosa che pensavo è ho capito dove hanno sbagliato di nuovo Nomen Sky e Starfield no ma adesso Nomen Sky è incredibile io te lo posso dire perché l'ho giocato sì non è vero comunque l'ho giocato anche di recente però per me non è vero cioè è vero sono arrivato a quel punto in cui però non è non c'è c'è il problema di Nomen Sky per me è sempre l'immediatezza che ti prende a pugni nella bocca e nelle palle ma l'hai modificato un po' con le modifiche che puoi fare o tu l'hai giocato base l'immediatezza che ti prende a calci il fatto che devi fare le missioni per fare le case già solo che mi compare anche se non la devi fare io disinstallo il gioco ma non sei obbligato però non me ne frega un cazzo a parte che sei obbligato perché se mi laspeggi le cose così sei obbligato ci sono varie missioni Nomen Sky adesso è pieno di missioni pieno zeppo sì però sono tutte fetch quest o cagate no 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 non mi interessa io ho fatto quella bellissima dove devi costruire un robot e poi piantarci l'intelligenza artificiale dentro è stata una quest incredibile quella di Nomen Sky è stato proprio bello poi ci sono anche un po' le fetch cos'è servito poi dopo ti ha seguito il robot certo si diventa il tuo robot lo puoi sia guidare che spawnare per combattere la differenza tra Nomen Sky e Starbound adesso poi è chiaro che Starbound è 2D e tutto quindi è immediato e tutte quante cose però appunto io Starbound lo apro tempo 15 minuti per carità no devi fare la prima missione per iniziare ad avere tutta la libertà del mondo perché devi mettere a posto la tua navicella però già puoi andare almeno in giro nel sistema solare iniziare a esplorare i tuoi pianeti come cazzo ti pare e c'è roba da fare e tutto quanto Nomen Sky non ce l'ha quell'immediatezza no non così tanto è vero quindi mi scoccia poi è vero c'ha come dicevi tu Karim c'ha tutte le puoi fare puoi modificare la partita ma è una cosa che a me dà fastidio nei videogiochi non giocarli come il creatore l'ha pensato è vero però l'hanno messa loro è vero l'hanno messa loro l'opzione però mi viene il fastidio a giocare un gioco come non è stato pensato che in realtà lo velocizzi solo non è non lo modifichi nel cuore semplicemente è solo una cosa mia psicologica ma ogni tanto poi mi viene da rinstallarlo però poi dico adesso ti parlo di un altro gioco che però è collegato a Starbound che è il signore degli anelli le miniere i nani delle miniere quello scaricato non è ancora avviato allora mi attirava l'idea però io sono arrivato ad un certo punto della mia vita videoludica in cui appena vedo che tu devi farti il piccone che ha la stamina la durabilità la durabilità che scende e poi devi trovarti altri materiali per rifare il piccone mi sparo mi sparo sono arrivato a questo punto della mia vita in cui io non riesco più a sopportare l'idea di dover stare lì a guardare non ce la faccio più e quindi quando ho visto che è un survival classicissimo però è un peccato perché la cioè allora è un survival di base classica proprio però il resto sembra figo nel senso che l'esplorazione è fatta tipo a scacchi tipo stanze a enormi stanze dove trovi roba effettivamente cioè c'è roba in giro un sacco non è un survival dove vai in giro per sopravvivere trovi proprio roba nelle miniere di moria è esplorativo è un po' più però il problema è quella parte survival che non ce la faccio infatti io ho giocato Ark ah sì ho visto il video sì ho visto il video ed è Ark ed è un guardo cazzo la stessa roba ma è strano io ho visto solo la presentazione ma e non facciamo vedere i menu chiaramente di Ark come so allora con gli stessi font e gli stessi colori è vero che non abbiamo parlato di Ark pensavo ne avessimo parlato la settimana scorsa scusami perché il trailer era solo la grafica figa dell'Arial Engine è lo stesso gioco rivenduto a prezzo vabbè l'ha rivenduto quattro volte gatto quindi si sta no quando l'ha rivenduto scusa no Ark era uscito Pixel Ark sì però è un'altra roba è uscito anche Ark Park mi ricordo no mi ricordo anche Ark c'era anche la Battle Royale sì però è gratis quella ma te la ricordi la Battle Royale di Ark sì è stato un incubo durato pochissimo grazie a Dio una settimana è durata sì io mi ricordo anche di Ark aveva avuto una riedizione o qualcosa però no 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 doveva uscire Ark 2 l'hanno annunciato e poi adesso è uscito questo che è lo stesso identico gioco però molto strano perché io nei primi 20 minuti no in realtà ho giocato un'ora e mezza ma sono arrivato al livello 30 cioè facevo un livello dopo 6 secondi ma veramente pam 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 infatti anche nel video dicevo è che due coglioni perché ogni video partiva la musica che mi stanno facendo i cazzi miei ma cosa ho fatto ho raccolto un sasso e partiva la roba e non sono riuscito a fare niente perché adesso ho imparato a giocare a Dark no beh ho imparato che con la clava te stordisci e poi dopo ci metti le bacche dentro non sono riuscito a farlo una volta questa cosa che hai detto è un po' strana per gli animali per gli animali letteralmente stordisci e poi ci metti le bacche dentro un po' di cosa sta parlando non sai come funziona Ark allora praticamente quando c'è un dinosauro ci sono due tipologie di dinosauri quelli pacifici che gli puoi dare il cibo lo metti nell'inventario nell'ultimo tasto e tu automaticamente gli dai del cibo però io ho trovato quelli raffinati che volevano la carne di qualità buona cotta e la carne di qualità buona te la dà il brontosauro solo che è difficile da ammazzare all'inizio e allora cosa puoi fare su Ark devi stordire i dinosauri dandogli le clavate in testa quando sono svenuti gli devi mettere dentro la bacca narcotica per tenerli addormentati come Pokémon e il cibo sì e li fai mangiare a forza porca miseria ma è terribile quindi mentre sono addormentati se si stanno per svegliare gli infili a forza la narcotica gli apri l'inventario e gliela infili in gola e per farteli amici gli dai il cibo che se lo mangiano da soli e poi dopo diventano il tuo animale e io non ci sono riuscito non ci sono proprio riuscito nonostante sapessi che cosa dovevo fare non ci sono riuscito perché i raptor mi hanno arato il culo ma nella zona iniziale poi tornavo lì e mi riammazzavano e tu dovevi ovviamente ricominciare rifarti tutto è stata veramente un'esperienza strana perché seppur facessi un miliardo di livelli al secondo comunque mi asfaltavano non ho non ho ottenuto niente ma poi i livelli sono per il personaggio per sì se muori ti toglie tutti vabbè perché se muori lì giustamente rinasci ma è sempre con quel personaggio sì 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 esatto non perdi i livelli perdi lo zaino l'equipaggio sì lo zaino esattamente che poi arrivi e te lo recuperi con un tasto per l'amor di dio però tutti i livelli ho aggiunto forza stamine non è cambiato niente è stato quasi peggio dell'arco originale con gli stessi bug che tra l'altro tu hai mai capito come funzionano i livelli dei dinosauri perché io vedevo come cazzo funziona allora ogni dinosauro ha il suo livello che però dipende anche da come sei messo tu perché ad esempio tu puoi trovare un dodo a livello 70 e comunque massacrarlo perché è un dodo ok ma se tu trovi un raptor a livello 5 ti massacra perché ognuno hanno range diversi ma che merda di merda della merda senza roba ma scusami vedi il brontosauro è a livello 476 poi vedi il dodo a livello 127 e poi il raptor a livello 2 e tu non capisci e sono forti uguali è capito non si è mai capito nulla e io ho la guida fisica mi ricordo questa cosa perché? perché ho comprato una guida non ufficiale fatta da un ragazzo perché un paio d'anni fa mi ero preso sotto con Ark e comunque ci ho giocato guarda te lo dico subito vediamo quanto ho giocato a Ark survival evolved 40 ore e non ho fatto niente 40 ore non ho fatto nulla però le ho fatte tutte in un arco di pochissimi giorni perché mi ero preso sotto solo che arrivavo a dover cioè da solo poi è un incubo quel tipo di survival no non si riesce il signore degli anelli mi ha detto che è lo stesso problema da solo ad un certo punto devi farmare tantissimo per riuscire a fare quello che devi fare tantissimo perché se no non riesci se sei da solo e quindi c'è quel problema lì e star 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 bound star bound è lo stesso problema star bound credo che abbia il come si chiama il prendere gli oggetti la legna le pietre eccetera peggiore di tutti i survival che abbia mai visto perché c'hai sto laserino è l'unico motivo per cui non l'ho mai giocato perché quella roba in 2d mi uccide te lo fa mollare al 100% un gioco invece bellissimo che ho ricominciato perché è uscito da accesso è Smytime Sandrock giusto è vero come sta andando è portia è proprio la stessa roba migliorata che dopo tutti questi anni mi sta bene ti l'ha messo sì è uscito al day one del cioè la settimana scorsa quando è uscito il gioco proprio dall'access esattamente sì perché dovevamo farlo anche noi che abbiamo mandato la chiave però ancora non l'abbiamo toccato è migliore in tutto appunto hanno aggiunto la co-op hanno aggiunto un po' di meccaniche però è la stessa roba cioè tu devi farmare seguendo una storia che è la roba che voglio fare nei giochi te la rende un po' una rottura di cazzo l'acqua perché tu sei nel deserto e quindi alcuni macchinari si surriscaldano e devono utilizzare l'acqua quindi per adesso l'unica rottura di palle che mi sta portando a farmare è l'acqua quelli che devo andare a prendere non so dalla pianta me ne droppa un po' di rugiada e con 10 di rugiada ti fai una tanica quella è l'unica cosa che mi sta portando la tanica con le goccioline di rugiada veramente sì a bere e poi la tanica è rappresentata sembra un un bambù tagliato a metà dentro l'acqua un secchio sì poi dopo il secchio è quello blu la tanica è proprio quella blu che hanno i contadini che si chiude con e sta andando bene è bello hanno aggiunto un po' di meccanismo mi è arrivata una mail molto strana tra l'altro che vi voglio leggere dagli sviluppatori su Sendro che ti arrivano i messaggi tu puoi rispondere alle persone cioè li puoi rispondere al messaggio alla mamma e in base a cose le rispondi ti mandano magari oggetti o ti dicono ah ok facciamo questo facciamo quello aspetta perché è stata abbastanza inquietante quella mail lì non mi ricordo quando eccolo qua mi è arrivata questa mail l'altro ieri e l'oggetto è spice up your my time at sendro experience with love attenzione la mail mi dice c'è uno sneak peek di quello che ti puoi ah no aspetta we are thrilled to see you are enjoying my time at sendro siamo felici che ti sta piacendo in case you are looking to spice up the experience vuoi rendere l'esperienza un po' più piccante non so se proprio piccante sia anche se spice vuol dire piccante vuol dire un po' più sì per la tua esperienza e per le tue persone ti vogliamo dire che puoi avere le romance e poi c'è la lista ci sono 21 personaggi romanzabili puoi fargli dei regali puoi viverci assieme aumenta il tuo engagement portandoli fuori a cena la mail di una dating gap però è quello la mail parla solo di quello le cose che piacciono le persone tra l'altro per aumentare l'amicizia con i personaggi dell'altro sesso anche non perché puoi fare quello che vuoi c'è anche la lotta cioè tu li puoi picchiare ci sfidi se vinci loro ti danno più favore però non è un bel messaggio è l'evoluzione di fable dove scorreggiavi per sì esattamente quello oppure c'è un gioco che è la morra però a carte con gli animali e per me è terrificante praticamente tu devi giocare ad ogni partita quattro carte di quelle che hai pescato che vanno sono l'elefante il lupo il gatto e il topo il topo batte l'elefante l'elefante batte il lupo il lupo batte il gatto e l'elefante batte il gatto e il gatto è una merda e il gatto è una merda si batte solo il topo scusami il topo non batte nulla però o l'elefante ah giusto perché scappa certo esattamente ma che merda ed è a caso cioè tu butti la carta si girano e dici ah però è veramente la morra ah è proprio quel tipo di si si ed è al meglio di tre perché si ed è una merda quella poi puoi portare la ragazza fuori a cena e ordini tu per lei è un po' strano la picchi e poi è padrone si 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 gioca anche a carte questo uomo medio mentre subriache bestemmia la porti al bar la porti al bar la porti al bar ordini tu per lei la picchi e poi giochi ma ordini tu per lei il vino cioè ma ordini tu per lei nel senso non paghi ma ordini proprio tu per lei si 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 a lei non decide eh no poi diciamo sempre la scusa eh ho la testa fra il lume ordina tu perché tu cioè la meccanica del hai imparato a conoscere questa persona sai cosa gli piace quindi ordini la cosa che gli piace no per avere il favore non è che funziona così però tra l'altro però guarda giusto per sai cosa gli piace quando vai a far la spesa magari compri qualcosa che gli piace e lo puoi fare gli puoi fare anche un regalo al giorno e deve essere quel però se gli regali sempre la stessa cosa dici anche due coglioni certo se mi regali i stessi calzini tutti i giorni mi giocano i coglioni esattamente un dating sim eh si si è molto è molto è un live sim c'era gatto io ti darei un video o un video non so se l'hai fatto un video o una live o comunque una serie di live con un gioco specifico che è Dead or Alive Extreme Beach Volleyball ma perché scusami perché secondo me no no secondo me era avanti anni luce rispetto a questo questa cosa dei dating sim ma cos'è che potevi fare in Dead or Alive tutto gatto qualsiasi cosa c'erano 3000 regali che potevi fare potevi fare i set fotografici potevi chiacchierare con le persone potevi fare di tutto e poi anche giocare a beach volley non mi ricordavo che avesse mi ricordavo che giocare a beach volley poi li potevi guardare le pere aspetta sì e c'è anche tanto altro no assolutamente devi giocartelo su xbox 360 devo comprare dai dei ma in cloud magari magari c'è in cloud c'è Dead or Alive extreme beach volleyball non c'è non è uscito per pc no magari mai magari per davvero ma vedi se c'è in cloud eh magari c'è esatto da giocare su xcloud perché c'è Dead or Alive 6 e un miliardo e mezzo di DLC ah no la prima xbox gatto eh forse è più dura lì che c'è in cloud beh però non è detto perché magari c'è su 360 gira era esclusiva pensa microsoft si potevi guadagnare guadagnare soldi potevi fare un botto di roba c'era è per quello che dico secondo me quel tipo di di gioco un po' come Michigan un po' come quei giochi lì erano molto avanti che adesso io sogno giochi come erano troppo avanti che ai tempi che cazzo no ma infatti ne parlavamo settimana scorsa nell'ultimo Yakuza c'è quella modalità lì che per me sarebbe io vorrei giocare solo quella Animal Crossing sì tipo Animal Crossing però non solo basta Siri non ti ho interpellato hai rotto i coglioni ti direi sì ho capito è vero è uscito solo sulla prima però magari è nella lista di giochi retrocompatibili su 360 se ti va di culo sì però vedi sono quelle cose pazze dei giapponesi queste ma io le adoro hanno smesso di farle e mi sta sul cazzo uno dei giochi più famosi è rimasto solo Yakuza Yakuza lì fa queste cose però mi fa cagare il resto è quello il problema non mi fa impazzire eh lo so lo so non capisco un cazzo no il gioco del ragazzino che viveva la sua vita da giapponese quello che consigliano tutti quando bisogna parlare di un gioco che è uscito per play 1 qual'era? adesso te lo trovo perché c'è un nome veramente che non mi ricordo non mi ricordo Boku Boku è verissimo è verissimo verissimo ma per me anche solo Disaster Report è una roba incredibile come gioco incredibile cioè adesso da merda una marea di survival che escono adesso poi è trash a non finire però no perché oggi c'è sempre il gioco live sim che non lo fanno più perché oggi c'è tutto il problema che sì è Shenmue anche tutto il problema che quando esce un gioco che poi fa parlare di sé cercano tutti di clonare quel gioco ma clonassero quelli stanno clonando Animal Crossing che non è un gioco io lo continuo a dire mi piace da morire ma Animal Crossing non è un gioco cioè i giochi che clonano sono quelli che fanno scalpore questi giochi qua non fanno scalpore ecco piassero My Summer Memories che continuano a riportarlo ma è un'esperienza live sim poi devi chiamarti tua zia sì ma solo tu lo giochi My Summer Memories sì perché è porno se togliessero il porno sarebbe un gioco bellissimo ma solo per pochi a me basterebbe non fare giochi nuovi così rendete retro compatibili sti cazzo di giochi ma no ma io vorrei anche qualcosa di nuovo perché ok però My Summer Vacation cioè è vecchio ormai non so quanto oggi ma non importa gatto anche perché poi i giochi indie vengono fuori con quella grafica lì con quelle meccaniche lì quindi tanto vale prendere quelli là come Disaster Report o Michigan o tutti quei giochi lì come diciamo sempre con Gabriel è che se tu riesci ad aprire le porte della retro compatibilità è come se ci fossero Steam 2, 3, 4 da poter giocare io ho una marea di giochi big box per pc che tipo Lego Island dove cazzo è Lego Island dove tu consegni le pizze in un'isola Lego dove cazzo sono io voglio che riportino quel tipo di c'è lo stesso gioco ma semplicemente in 1080p non devi neanche fare la remaster dove aggiungi roba il remake neanche devi solo portare quei giochi come hanno fatto con Turok e Turok 2 capito li riporti poi te lo fanno pagare 60 euro non è vero di solito quei giochi li fanno pagare tipo 19 15 dipende 60 solo Nintendo fa questa cosa solo Nintendo te lo fa pagare full price Mario RPG secondo me è un'inculata pazzesca anche secondo me perché non hanno rinnovato sì perché non hanno rinnovato così tanto secondo me però Mario RPG già è un bel giocone sì però allora hanno fatto sono d'accordo ho fatto delle remaster ed ottimi appunto sempre parlando di Link's Awakening è bellissimo hanno fatto un'ottima trasposizione di 3D World anche quello uno dei giochi di Mario miei preferiti però tu guardi Mario RPG e l'hanno un attimino pulito visivamente non hanno fatto un bel lavoro a me piace un sacco quel look vintage che gli è rimasto però anche è tanto vintage cazzo questi cazzi se no lo fanno con i cibi di merda con la grafica di gomma quando mettono i filtri i filtri no non dovevano fare il filtro dovevano rifarlo per me non era da filtro era da cioè i persone su tutti duri l'ha rifatto però gli ha lasciato quel Super Mario RPG non è effettivamente quello per Super Nintendo che esce perché quello non ha artwork quello è pre-renderizzato sono 3D però pre-renderizzati quindi quello da rifare è un incubo lo devi rifare proprio tutto non puoi neanche ridisegnarlo capito però se tu mi stai vendendo un gioco così è vero non vendermelo a 70 60 euro il discorso è quello lì cioè tu non ci hai speso forse come Super Mario Wonder per farlo hai capito però lì torniamo sempre al punto esatto lì però torniamo sempre al punto c'è nel virtual console nel Nintendo Switch si c'è nel virtual console c'è Super Mario RPG mi gioco Super Mario RPG 64 boh non lo so io l'avrei svecchiato molto di più poi sono gusti anche lì a me piange un po' il cuore vedere l'ho ripresa recentemente la Switch per Gothic perché volevo ah no l'hai fatto allora cioè ovvio per forza solo così lo posso giocare mortaggi loro però ne costa 30 quindi va bene c'era la tab giochi di Mario l'ho aperta e sono tutti i giochi che io giocherei di corsa 59,90 59,90 59,90 tutti 59,90 costavano però sono tutti i giochi della Switch non solo no tutti quelli usciti per Switch ma anche giochi vecchi capito e tutti i 59,90 ma potrò spendere devi aspettare gli sconti 1400 euro per 10 giochi potrò mai spendere così tanti comunque è come se Metaslag te lo facessero pagare 60 euro e Metaslag dura 30 minuti no beh Mario no no Mario no costa comunque 10 euro costa a me Mario comunque mi ha portato via un bel po' di orette Wander costa 5 euro Metaslag Wander sono quelli che buttavi nella macchinetta per giocarlo eh sì sì l'hai pagato di più Metaslag alla fine no allora fammelo pay to win me lo dai gratis però devo pagare un euro per giocare lo fai proprio andando considera che Mario Wander Karim ho fatto 2-3 try per ogni livello l'ultimo livello ce ne ho messi 120 120 try? sì immagina quanti soldi avrei dovuto pagarlo è difficile scusami è abbastanza difficile però ho completato il gioco il 100% ho fatto tutto cosa vuol dire il 100% è come le lune di Odyssey più o meno in ogni livello ci sono 3 monete da prendere e in ogni livello devi prendere la punta più alta della bandiera ah ok e alcuni livelli hanno della roba segreta che non ti dicono e sempre nei livelli ci sono i semi da raccogliere ok con delle zone speciali va bene è quello è stato stavo pensando stavo pensando perché comunque Mario li ho giocati Mario base sì quindi Wander potrei Wander ti giuro sai che lo metto nella lista dei goti mi è piaciuto tantissimo è uno dei giochi che più mi è piaciuto quest'anno poi chiaro contestualizzato al platforming quindi probabilmente il goti non glielo do per altri motivi perché c'è banalmente qualcosa che mi è piaciuto di più però per me è proprio il canto del cigno anche della switch non tecnicamente perché tecnicamente credo sia comunque è più semplice di altri giochi però sì cioè come il gioco come il gioco per me è proprio l'apice che la switch ha raggiunto e adesso dovrà uscire perché c'è comunque adesso tears of the kingdom Zelda in generale è fighissimo è tutto però sinceramente io se gioco su switch preferirei giocare più Mario Wonder no beh siamo d'accordo però è proprio il gioco per la switch Mario Wonder sì 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 però tears of the kingdom è The Last of Us per play 3 è il The Last of Us della switch sì no è vero non con la stessa qualità perché ne abbiamo già parlato a livello di no va bene però come killer app esatto no no ma anche a livello tecnico cioè quello che spinge l'hardware a raggiungere il suo apice cioè che più di quello non puoi fare perché The Last of Us su play 3 ce lo ricordavamo tutti incredibile lo era per l'epoca poi lo riguarda adesso per la play 3 lo era per la play 3 lo era esattamente però ragazzi adesso tra qualche settimana cosa c'è c'è il trailer di GTA 6 è vero probabilmente lo faranno vedere al coso a William Awards fra qualche settimana staremo giocando a The Day Before ma smettila che retino dobbiamo farlo ragazzi io sì dobbiamo giocare a The Day Before io adesso farò dei counter anche perché l'hanno rimandato di un mese perché dovevo uscire adesso eh adesso avremmo potuto giocare a The Day Before invece l'hanno rimandato tra un mese all'undici eh il sette dovrebbe essere il sette dicembre sì comunque un mesetto hanno vinto la causa per il nome quindi il gioco si chiama The Day Before sì c'è l'housing dove puoi arredare la casa hanno fatto vedere questo gameplay overview che io voglio capire esce in accesso anticipato ovviamente io voglio capire come introducono tutti gli elementi che loro hanno presentato in un mondo persistente online io vorrei capire come manco Daze ce l'ha fatta non lo faranno manco Daze dopo cent'anni ce l'ha fatta sarà per davvero online lo spero facciamo una live tutti assieme dove cerchiamo di entrare secondo me sarà come Atlas no ve l'ha ricordato il day one di Atlas certo che mi ricordo il day one noi 12 ore qui 4 frame al secondo perché la gente dormiva nel porto no 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 lì è quando sei entrato la coda che arriva ti ricordi quanto sei rimasti ancora un giorno intero sei rimasti ovvio certo no secondo me veramente sarà io lo so che succederà come in Oman's Sky io e te siamo nello stesso posto no edificio e poi si scopre che non era online davvero è una roba ti ricordi avevano mentito ci metterete anni arrivare nel senso che niente l'hanno fatto neanche una settimana tre giorni dopo no era tipo tre giorni sì tre giorni dopo e non era vero erano gli entrambi la porca miseria e tra l'altro glielo avevano scritto a quello di Hello Game glielo avevano scritto guarda che si sono trovati e la risposta è stata ma è incredibile ma si ma non si sono disti ma bellissimo questa cosa è assurda no sì va bene solo uno davanti all'altro secondo me ne è valsa la pena farli soffrire dici secondo me la nostra sofferenza è stata ripagata con quelle cose lì c'è da dire comunque che No Man's Sky si è presa vagonati di merda ha ragione ma infatti io non voglio premiarli in alcun modo però si sono fatti un po' perdonare hanno fatto tantissimi aggiornamenti ad oggi che invece questa voglia di rivalza questa voglia di dimostrare qualcosa non c'è stata invece in Cyberpunk un botto di giochi un sacco di giochi no però in Cyberpunk in realtà sì o meno non è così tanta però sì secondo me è rimasto possibile il gioco è rimasto però i DLC comunque te l'hanno fatto pagare nonostante hanno detto eh no sarà tutto gratis il cazzo l'hanno fatto comunque pagare i DLC io avrei fatto tutto quanto gratuitamente come No Man's Sky No Man's Sky ha fatto un botto di aggiornamenti giganti tutti gratis però i DLC di No Man's Sky sono più strutturati all'interno del gioco non è quello è un pezzo di storia quanto penso agli attori agli selma tutto il resto te l'ha messo nel gioco base comunque e ho capito gli aggiornamenti ci sono stati sì ci sono stati gli aggiornamenti però anche per dimostrare che è vero che è storia a parte io l'avrei fatto gratuito per chi l'aveva comprato prima di una certa data sarebbe stato strano a un livello di produzione che non è lo stesso di No Man's Sky costa l'ira di Dio fare il DLC anche solo pagare i trissel eh ho capito io però comunque tu mi hai venduto la merda no ma l'hanno aggiornato gratuitamente però anche perché su PS4 è rimasto la merda non c'è il DLC nella Play 4 e tra l'altro ma non è uscito il DLC su Play 4 eh per forza ma hanno fatto cioè se non rifacevano la merda rifacevano hanno fatto bene a dire proprio guarda non c'è sulla Play 4 via mettetevi l'anima in pagina abbiamo sbagliato noi e via avrei rimborsato tutti quelli su PS4 ma lì avrebbero dovuto chiudere probabilmente mi sta bene che si siano un po' rivalsi a proposito di queste storie di rivalsa di No Man's Sky di Cyberpunk sapete qual è il gioco che non vogliono hanno detto proprio non vogliamo mollarlo e vogliamo fare come No Man's Sky Redfall l'hanno proprio detto sì vabbè hanno detto che non vogliono mollarlo e vogliono salvarlo l'ho riprovato qualche settimana fa stanno facendo grossi aggiornamenti è identico tutti gli aggiornamenti li ho provati adesso è stabile sicuramente hanno risolto i problemi tecnici il problema è che è un gioco del merda il problema è che è un gioco del merda almeno Cyberpunk almeno a me come luter shooter a me era piaciuto un botto Redfall è un gioco del merda io vorrei capire come cazzo lo devono sistemare come lo devi rifare da zero per sistemarlo hanno detto non lo vogliamo mollare l'ho riprovato di recente a zero giocatori zero letteralmente zero adesso i nemici ti sparano volendo sì ci sono anche i vampiri volendo ci sono i vampiri in mezzo alla strada hanno sistemato un po' quel tipo di il problema è che lo shooting fa schifo al cazzo il loot è inutile è tutto bruttissimo è terribile non ha carattere neanche un pelo boh viviamo in un in un epoca tra l'altro dove quando è Sony sti giorni ha detto che dei 12 live service che dovevano uscire il prossimo anno 6 li hanno chiusi certo molto bene negli ultimi anni hanno chiuso più live service Ubisoft Ubisoft ha licenziato mezza popolazione del mondo anche di aziende che non sono sue ma come cazzo hanno fatto ad arrivare a quel livello lì in Ubisoft guarda mi piange il cuore non riesco proprio a capire e come hanno fatto lo so benissimo come hanno fatto però hanno fatto delle scelte del cazzo perché comunque i soldi li facevano non è che è certo i soldi li facevano finché i giochi erano belli le idee erano belle i soldi i giochi non è che li facevano li vendevano comunque hanno venduto abbastanza Ubisoft ha sempre avuto il problema che sempre no nel senso c'era delle belle idee bellissime idee sfruttate di merda perché volevano fare il gioco per tutti quanti e quindi hanno perso tutta l'autorialità nell'arco di pochi anni ultimamente Far Cry 6 è proprio l'emblema di questa cosa Far Cry 6 è proprio un gioco mediocre su tutti i punti di vista mi dà troppa roba da fare è quello il problema non è solo quello è che anche lo shooting è rimasto vecchio è tutto vecchio il feeling è vecchio è proprio non me lo ricordavo così male lato gameplay eh mamma e forse anche di Far Cry 3 forse se lo rigiochi è bellissimo ma lo shooting è quello che è invecchiato peggio però hai visto Moro con X-Defiant io l'ho provato X-Defiant che anche a me era piaciuto un botto ma l'hanno rinviato a data da destinarsi è normale forse non gli reggeva era perfetto su PC tutti hanno detto finalmente è arrivato il code killer ed è sparito perché ci hanno avuto problemi su console da quello che ho capito ma fammelo uscire su PC vaffanculo basta consolare di merda pezzi di merda non riescono a sviluppare per console basta fatelo perché ne hanno tre ne hanno quattro adesso tutte le configurazioni su console se sono una console è facile ma vaffanculo eh no perché non è una sola purtroppo la Series X secondo me sta dando calci nei coglioni scusami hai ragione sì sì probabile però vaffanculo anche lì l'open beta mi sono divertito un sacco però Series X sta rendendo Baldur's Gate un gioco ottimizzato leggevo l'altro giorno che tutti lo dicono no no sì allora diciamo che Series X è una rotura di cazzo per gli sviluppatori ma è uscito su Xbox? no deve ancora uscire però lo stanno ottimizzando talmente tanto bene per Series X che poi dopo anche sulle altre console gira meglio e anche su PC verrà ottimizzato meglio pensate perché li costringe a lavorare meglio sì ma credo anche se non cioè lo avrebbero migliorato no non credo sì sì ma perché non è vero sono dei cazzoni dai ma non sono dei cazzoni mica l'Arian l'Arian sa non fare un cazzo dai sì hanno fatto dei giochi dalla Madonna sempre che girano di merda non recupereremo mai Divinity 2 no non Divinity Original Sin 2 Divinity 2 no no non mi è piaciuto io l'ho giocato Divinity non mi è piaciuto non 2 non Divinity Divinity 2 forse ho giocato Original Sin sai sì hai giocato Original Sin Divinity 2 è forse è il seguito di Divine Divinity sempre dell'Arian che era un clone di Diablo fondamentalmente e abbiamo fatto questo gioco molto strano in terza persona questa avventura in terza persona action RPG dove ti potevi anche trasformare in drago e volare ah ok ho capito Divinity proprio Divinity 2 non Divinity Original Sin 2 no Divinity 2 scusa infatti mi ero perso in questa nomenclatura non è che sono stati dei proprio dei genioni eh a loro eh vabbè infatti adesso ti racconto questa cosa che si collega con COD senti qua quando tu vai nella pagina di Divinity 2 c'è un pop up enorme con scritto questo non è Divinity Original Sin 2 se vuoi Divinity Original Sin clicca qui ed è successa una cosa simile hanno fatto review bombing di Modern Warfare 3 perché la campagna fa cagare ma hanno per sbaglio recensito quello un sacco di recensori sono andati lì e su quello vecchio per sbaglio e vogliono usi server dei vecchi perché c'avevano il cazzi problema che ti entravano nel come ti rubavano pure i soldi in casa fisici mica li chiudono no non l'hanno detto io cerco Modern Warfare 3 se mi scarico quello vecchio apro il gioco mi rubano tutto pezzi di merda almeno su Dark Souls hanno chiuso tutto su Dark Souls non potevi più andare online per un anno e mezzo quanto è durata secondo me secondo me non lo diranno mai l'hanno fatto per Elder Ring non l'hanno mai detto secondo me non lo diranno mai allora hanno spento i server sicuramente perché stavano lavorando su Elder Ring però no no quando è uscito erano chiusi quando è uscito quindi secondo me l'hanno fatto per far andare la gente a giocare rubano le cose e lo chiudiamo esatto ragazzi dobbiamo chiudere tutto però c'è l'unico aperto è Elder Ring se vuoi quello siamo riusciti a farlo bene esatto secondo me è la stessa infrastruttura però lì non rubano esatto è uguale identico però lì è sano non vi preoccupate va bene cosa mangiate a pranzo io oggi faccio la live di cucina e che cosa cucini non ho neanche avvisato nessuna parte zero oggi cucinerò faccio gli smash burger provo a fare ok come sono gli smash burger quelli schiacciati sottili sottili con la crosticina ma c'hai il quello il pugno con il metallo no userò un piatto il pugno suo così avrà le nocchie un piatto come mister si trovo qualcosa per schiacciare gli amuri e poi le patate arrosto croccantissime vediamo ma le fai croccantissime o sono croccantissime ti seguo allora che sono di base sono dure sono crude quindi croccano magari è un tipo di patata che a prescindere come la fai no no dovrei come come la faccio dovrebbe venire croccantissima quindi vediamo Morelli quindi no perché partirò tra mezz'oretta e tutto che devo allestire il palcoscenico vi mando vi mando da Kobe invece che è un ragazzo di multi che sta giocando all'Eyes of P noi invece ci vediamo domenica prossima per lui sì per noi ci vediamo domenica prossima volete lasciare qualcosa ai nostri ascoltatori ai nostri chicchi io ah i chicchi sono giusto non lo so io questa settimana mi giocherò una massima no una massima una massima di vita una massima una massima non sporcate i tappetini della macchina perché non li lava mai nessuno il mio è pieno di sassi esattamente ma sai che io ce li ho sbatto contro un altro io ho un set di tappetini completamente nuovi in bagagliaio e me li ha andati con la macchina effettivamente visto che la macchina la cambierò l'anno prossimo potrei cambiarmeli all'ultimo secondo però me li devo tenere secondo voi li devo restituire anche quelli penso di sì magari non si accorgono non so che cazzo se ne accorgia però vabbè cambiate i tappetini delle vostre macchine e buona domenica o lavate le almeno